Crisi che non sembra esistenziale, labbra un po' serrate e da fumare, lebbia che produco e distensione, stretti per potersi distanziare, stracci di disagio esistenziale, sputi di salute da darbare, e sazi e ricocci e carna rivoluzione, stringo per poterlo stridolare. Se sbagliando conosciuto il tempo, con tempo riusciremo a dirci che, infermarsi è come abbandonarsi a un sé, con tutto quello che mi importa, e anche nella coscienza sporca. Grazie. 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 Grazie.